Date fondo all'ancora! Cosa? Date fondo all'ancora! Moriremo tutti! Sì, moriremo tutti! Lei morirà! Io morirò! Moriremo tutti! Ma non oggi! Cosa? Tempiamo di piombo questi figli di fuoco! Ricaricare! Ricaricare! Non ci spavano tutti! Forza a sinistra! Scanciate l'ancora! Cosa? 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 Vado lì! Cosa? Dovete? Cosa? Non scadere? Cosa? Non scadere! Cosa? Cosa? Ecco! Non scadere! Non scadere!